Siamo al mare a fare il bagno io sono truccata vestita bene con tutto questo viso rifatto di botulino che mi chiamano botox invece mi sono fatto qua le rughe io ho tirato vedi qui si vede proprio che è stato molto tirato e siamo un po sporchi stiamo uscendo dal come si dice dall'estetista sì sì eccoci qui le scarpe sono il top quindi niente vorremmo augurarvi una buona giornata e il tempo è bruttino ma noi siamo qua e niente poi vi faremo vedere le sorprese che stiamo preparando tempo al tempo qualche giorno e vedrete tutto ok ciao a tutti noi loro sono non li sentite sempre tutti dentro che dormono che dormono riparati ciao ciao